Sempre il 1982, sempre con Ennio Drovandi, se andate su internet, Ennio con a n solo, Drovandi con la d all'inizio e con la d alla fine, drovandi mi raccomando, punto it, sempre l'82, un anno straordinario, prolifico, bello per Ennio, fa una partecipazione in un film che abbiamo citato già due volte nella nostra trasmissione, in cui c'erano altri amici che hanno fatto le puntate con noi come Carmine Farago e come Martufelli. Il titolo? Beh, il titolo è un titolo anche di un disco che faceva qualche amico mio a Milano, era Viva la foca, sto titolo diceva che Dio la benedoga, invece il titolo del film era? Viva la foca, viva la foca, tra i giovani Nando Cicero. Nando Cicero, di che parla realmente? Parla di una cosa meravigliosa, parla di quell'essenza eccezionale divina che noi tutti amiamo, che è là, è là, è là, leviamola i, vai con la o, viva la foca, Dio la benedoga. E tu che ruolo ricoprivi in questo film? Beh, io c'è all'inizio del film un tassista che porta l'Ori del Santo in quel momento in auge di grande successo e insomma questa battuta, poi ci sono altre, ma questa battuta dell'inizio io direi, se mi permetti, facciamogliela vedere che dice tutto. Ma la, mi scusi, maestro, direbbe Stefano Tisi, ma la foca era l'Ori del Santo? No. Beh, l'Ori del Santo aveva molto della foca. Beh, ho capito, è certo, e se non era foca lei in quel momento lì, è certo. Molto ricordava, hai capito, comunque la trasmissione sta avendo un aspetto molto bello, no? Parliamo dallo scopino, la foca, cioè, qui stiamo andando a foca, e vedi, trasmissione arte in dulcio con egno trovanti, mi piace, ma è grande. Però il carattere culturale di questa trasmissione, lo sto scegliendo io, è il tuo curriculum. Eh, tra poco basta arrivare, da così prendere, mettermi l'oggetto e siamo a posto così. Vale, grazie. Allora, dalla regia, viva la foca. Che Dio la me ne tocca. E mi sono bloccato, così fa che ho più comodo, eh, signore. Signorina, prego. Mi scusi, ma dallo specchietto ho visto tante belle cose, però fino a fondo mi è riuscito a vederci. Anzi, magari ci do un'occhiatina, eh. Ma stia zitta e vado avanti scostumato. Anzi, magari ci do un'occhiatina, è un'occhiatina, è un'occhiatina, è un'occhiatina, è un'occhiatina. Anzi, magari ci do un'occhiatina, è un'occhiatina, è un'occhiatina. Anzi, magari ci do un'occhiatina, è un'occhiatina.